Nikon Coolpix S31 è una fotocamera solida e compatta, pensata per essere semplice ed intuitiva. Il suo corpo è costruito per sopportare un uso molto dinamico, è infatti impermeabile fino a 5 metri e resiste agli urti fino a 1.2 metri. È quindi sufficientemente solida per sopportare qualsiasi tipo di utilizzo. Nonostante il suo look piuttosto giovane, la S31 di Nikon offre prestazioni all'avanguardia. Obiettivo Nikkor con zoom ottico da 3x, sensore con risoluzione da 10 megapixel, flash incorporato e filtri per la modifica delle foto. A tutto questo si aggiunge la presenza del comodo display LCD da 6,7 cm che consente di spostarci facilmente all'interno dei menu e visionare i contenuti registrati. Essendo studiata per essere accessibile a chiunque, il menu è strutturato in modo da essere molto intuitivo. I tasti inoltre sono grandi e permettono di accedere facilmente alle funzioni visualizzate a schermo. I contenuti possono essere salvati su schede di tipo SD, nel pratico alloggiamento nella parte inferiore del dispositivo. Nikon Coolpix S31 è una fotocamera davvero versatile, adatta a tutti e un ottimo strumento da viaggio per le vacanze o il tempo libero.